Sinceramente non sono neanche entrata perché i pompieri hanno spento l'incendio questa notte. Io ho un bambino piccolo quindi stavo a casa. Stamattina sono venuta, adesso ho il mio marito a fare la denuncia e non lo so sinceramente. Quante persone ci lavorate? Ripeto, io, mio marito, i miei suoi, comunque siamo 7-8 persone, principalmente familiari. Ma non avete mai avuto richieste particolari, richieste? Questo è un atto intimidatorio di chiara natura estorsiva. Voi come vi ponete di fronte a questa eventualità? Che cosa ne devo dire? Io scendo dalle nuvole, cioè io non... Noi lavoravamo, eravamo tranquilli e questa notte questo è stato da... Da quanti anni state qua? Tre anni. Da tre in tre anni non sospetti di niente, nessuna gelosia, concorrenza, niente, quindi... No, 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 perché dovrei dire no. Quindi voi fornite particolarmente aziende di dove? Nel territorio, diciamo anche proprio di Foggia, proprio della nostra città. Abbiamo dei clienti esteri in Belgio e Olanda e poi serviamo anche alcuni pacchi divertimento, per esempio avevamo iniziato la collaborazione con lo Zoo Safari a Sanlandia. L'anno scorso, per esempio, abbiamo collaborato con il gruppo Rainbow, l'altro, l'altro, gli altri pacchi divertimento. Senta, la polizia e i carabinieri dicono che due giorni fa qualcuno... Hanno detto anche a me la stessa cosa questa mattina che qui avevano trovato, non so, della benzina. Cosa vuoi dire io? Non può essere un cortocircuito, però. L'hanno escluso gli inquirenti. Cosa fate esattamente? Cosa producete? Piatti pronti, piatti pronti, lo proviamo. Abbiamo dei formati, sia la monoporzione che il formato catering. Abbiamo dei due... Si riparte da domani? Cosa avete in mente di fare? Io spero al più presto di dare una sistemazione generale, in cui il tempo, non lo so, perché hanno detto che il suo spacco è inogibile, quindi comunque ci vorranno dei tempi tecnici proprio per poter ritostimare l'attività lavorativa. Ma volete ripartire? Noi viviamo di questo. Non vi spaventa? Ho capito, cosa facciamo? Non, non, non neробi che la king malo, poi nem...